Nella notte tra venerdì e sabato sulla regione passerà un intenso fronte occidentale accompagnato da correnti sciroccali. In seguito il tempo migliorerà decisamente. Per quanto riguarda la giornata di sabato, nella notte al mattino avremo piogge intense, anche temporalesche, specialmente le piogge saranno intense sulle prealpi, in particolare sulle prealpi carniche. Dal pomeriggio il tempo migliorerà invece su tutta la regione con delle schiarite che determineranno in serata la possibilità di nebbie o foschie sulla pianura. Temperature massime di sabato intorno ai 20 gradi su pianura e costa, minime piuttosto alte intorno ai 13-14 gradi in pianura, 16-17 sulla costa. Per la giornata di domenica avremo cielo poco nuvoloso variabile, sarà quindi una giornata soleggiata con temperature miti durante il giorno intorno ai 22-23 gradi in pianura sui 20 per quanto riguarda la costa. L'inizio della prossima settimana vedrà un cielo poco nuvoloso al più variabile, con temperature ancora relativamente miti, poi il tempo potrà peggiorare. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA, un saluto da Marcellino Salvador.